Ciao ragazze, per questo make up natalizio ho deciso di realizzare un look molto molto semplice per tutte quelle ragazze che nella giornata di Natale non avranno molto tempo da dedicare al make up. Inizio il mio make up andando ad applicare l'ombretto Stringe della Naked 2, lo applico con le dita sulla palpebra mobile per avere un effetto molto più intenso e con un pennello sotto l'arcata sopraccigliare. Con un pennello ampio da sfumatura applico un pelettino di ombretto Tost della palette della Mulac Different. Con lo stesso pennello, ma questa volta con l'ombretto Nooner della palette Naked 3, vado ad applicare l'ombretto sempre nella mia piega dove ho precedentemente applicato Tost. Sempre dalla palette Naked 3 vado ad applicare l'ombretto Mugshot e con un pennello molto a punta e abbastanza sicciotto lo vado ad applicare nella mia piega per creare profondità. Intensifico lo sguardo andando ad applicare la matita nera per version della Urban Decay. E ora è il momento di dare un tocco di colore a questo make-up. Questo passaggio è assolutamente personale, quindi potete scegliere il colore che più vi sentite rindossare durante questa festa natalizia. Io per questo Natale ho scelto questo blu e appunto vado ad applicare l'ombretto Titanic della palette Different di Mulac. Successivamente con un pennello a punta vado a sfumare la mia matita nera per non creare quell'antiestetico distacco che personalmente non amo. E definisco il mio occhio applicando una linea di liner e utilizzo le liner in penna Vamp della Pupa. Sempre dalla Naked 3 vado ad utilizzare questa volta l'ombretto Dark Side e lo vado ad applicare nel mio angolo esterno per intensificare lo sguardo. E dopo aver applicato le ciglia finte utilizzo il mascara Vamp sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Per far aderire al meglio i glitter nel mio angolo interno vado ad applicare con un Cotofioc della colla per ciglia finte. Successivamente con l'altra estremità del Cotofioc vado a tamponare i miei glitter. Qui non avendo una postazione idonea per girare il video non sono stata molto precisa però come potete vedere nell'altro occhio in cui ho realizzato con calma il makeup ho applicato più bene i glitter. Poi successivamente con un pennello angolato vado a sfumare un po' di colore nell'angolo interno per non creare troppo distacco quindi faccio questa sfumatura verso la palpebra mobile. Passo al viso e quindi con un pennello angolato vado ad applicare il blush con movimenti circolari. Essendo un makeup natalizio ovviamente l'illuminante non può mancare e vado ad utilizzare questo della Pupa della nuova collezione Snow Queen che devo dire mi piace tantissimo perché è davvero molto molto delicato. Quindi lo applico sopra gli zigomi, al centro del mio naso e sopra l'arco di cupido per dare otticamente l'impressione di labbra più cornose. Per i labbra un'opzione da giorno e una da sera o entrambe da giorno o da sera come più vi piace. Per il giorno ho deciso di applicare questo rossetto i color della Wicon numero 01 che mi piace davvero tantissimo e trovo sia particolarmente bene con questo look. Successivamente vado a rimuovere il tutto con un dischetto di cotone dalla parte con la texture più elevata. Questi sono della Demacup. Applico un rossetto Velvet Matte della Deborah Milano. È il numero 04 e questo vergogna bellissimo che trovo anch'esso stia benissimo con questo look. Per rimuovere gli eccessi di prodotto ed evitare che vada sui denti utilizzo il dischetto in questo modo. Come potete vedere tutto l'eccesso di prodotto rimane su di esso. Questo è il look finito. Io spero vi piaccia e fatemi sapere con quale colore lo realizzerete. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Se vi siete persi il mio look precedente sul Natale vi lascio qui i relativi link. Un bacio, ciao!